Ma salve! Allora mi trovate in un momento particolare, siamo proprio così di corsa. Perché? Perché? Ho un po' di cose da spiegarvi, ma prima di tutto benvenuti in questo nuovo, fantastico episodio di Rimworld. Magari è meglio se zoomo. Allora, God, perché c'è questa tinta lime? Che schifo, che cos'è? C'è un Toxic Spear. Perché? La cosa che vi sto per raccontare ci porterà indietro nel passato, anni ed anni fa. Allora, gente, ora un attimo di tranquillità e serietà. La ricerca sta andando avanti. Estremamente lentamente. Davvero, non posso dirvi quanto lentamente stiamo andando avanti perché davvero mi vorrei ammazzare. Siamo quasi, quasi arrivati alla fine della ricerca. E questo vuol dire che finalmente potremmo lasciare sto buco di me... Ma, 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 per far ciò, per fare tutto questo, per far sì che possiamo effettivamente lasciare il pianeta e quindi costruire, cioè, scusate, il contrario, costruire l'astronave e quindi lasciare il pianeta abbiamo bisogno di una Persona Core che però non possiamo tenere perché questo impero praticamente ci odia, ok? E quindi c'è poco che possiamo fare se non compiacerli. E com'è che possiamo compiacerli? Dobbiamo fare le cose che ci chiedono. E quindi, Toxic Spure. Proprio un piccolo veloce recap su cosa è successo in tutto questo tempo. Niente, ho accumulato cose, ho venduto cose. Non ho accumulato troppo, troppo argento perché c'è un limite a quello che posso avere. Ho ampliato la cucina e la... la ghiacciaia e basta. Non penso di aver fatto altro. Ah sì, la prossima cosa... ci arriveremo tra poco, ci arriveremo tra poco, ok? Ci arriveremo tra poco, tranquilli. Bene, manco per il cazzo. Adoro, adoro quando non fate quello che vi si chiede, mannaggia voi. Dai, su. Oh, e be... oh, e dai, e dai, e dai, e... Bene, questo andava bene. Andava davvero bene. Perfetto, non potevo chiedere di meglio. Ok, boom, basta, basta. Adesso voi tre, il trio dell'Ave Maria, venite qua e punite questo Scyther. Un Scyther giusto? Sì, è un Scyther. So che ci avete 20 minuti di traversata da fare, però... Eh, non me ne vogliate. Dove cazzo state andando? Dove, dove cazzo... Ma tu sei senza arma! Ma tu sei senza arma! Svetlana, che cazzo hai! Svetlana! Porca... Porca di una... Svetlana, ma che cazzo fai! Ah, sì, ehm... Gefa ho una minigun adesso, perché l'abbiamo comprata. Ogni tanto mi faccio prendere effettivamente dalle cose. Ok, penso che sia il caso di dirvi cos'era quell'altra cosa che dovevamo fare. Allora, prima di tutto mi sono ricordato ora di dirvelo. Ehm... Svetlana ha perso una gamba. Ma, come potete vedere, c'è la bionica. Perché Svetlana ha una gamba bionica? Perché... Cazzo. Perché stiamo facendo le protesi! Il rumore di esplosioni. Ehm... Sì, il prossimo obiettivo è rendere tutti i combattenti di questa col... Tutte le combattenti di questa colonia... Cyborg. Mi aspettavo un po' più di fanfara. Gold è posto di produzione, metti la fanfara. E' esatto, questo va bene. Metal Strider. No, scherzi a parte. Ci servirà parecchio materiale. Comunque la sartoria si sta rivelando davvero un ottimo modo per fare soldi. Ma la vero, la vero. Penso che ci servirà un po' di... 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 Un po' di tutto. Ah, è bene così. Compro i componenti perché penso sia una delle poche cose che... Avremmo... Avremmo necessità continua. Delle quali avremo necessità continua. Ok. Well, this is fun. Yes, this is fun. Bella giornata oggi. C'è un po' di vento. Piove. Ah, non sembra davvero primavera. Io ho mai detto quanto odio le... Le stagioni come la primavera e l'estate. Io sono proprio da autunno-inverno per tutto l'anno per quanto mi riguarda. Penso che potrei facilmente vivere in un posto come la Norvegia. O, generalmente, un posto molto piovoso. Non so. Mi è sempre piaciuta la pioggia. E voi? E voi invece? No, che cazzo vuoi? Ma per... Avete un'arma voi tutti? Sì. Più o meno. Ma... Ma che cazzo mi state dicendo? Oh mio Dio! Non ci credo si è tirata una granata sotto i piedi. Che deficiente! Che deficiente! Non ci credo. Non ci credo. Ce la faremo a salvarle? Ok, sì, l'ha salvata. Madonna, che deficiente! Ok, post. The vast construction. Chi? Di the villa kingship. Tu non sei l'impero. Muori! Ripeto ancora una volta. Madonna, che deficiente! Ok. Ride. Yes. Eccoli! Vai! Yeah! Pepepepepepepe. Ok, dai. Andate a dare una mano. Tr-tr-tru-tru-tru-la-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ok. Ok. E no, eh. Eh, no, eh. Path-pa-pa-papam. Morti tutti? Morti tutti. Questo è anche un buon modo per... No, non lo so. Stavo cercando una scusa, ma oggettivamente non c'è niente che tenga. Freckles! Ha un'infezione alla gamba. Eh, io le cambio la gamba. Amputate left leg. E tanto poi gliele rimettiamo, non vi preoccupate Ma qualcuno Sta facendo queste cose Micchia, ma servono i componenti avanzati E lama un po' donna E lama donna Quanta roba serve per fare i componenti avanzati Ecco perché le cose bioniche conviene comprarle Ma me lo son giocato tipo tutto Tutti i miei componenti avanzati me li son giocati Devo comprare le protesi Sì, devo comprare le protesi Bionica, yes Yes, coagulator, yes Yes No, non ci credo Ho tagliato la gamba sbagliata No, la gamba era giusta E quindi aveva perso una gamba E l'altra aveva un'infezione Non ci credo È come a Napoli, cioè gli è esploso Un poco d'artificio sotto le gambe Ah, ma ho appena Ricevuto una mail che mi ha detto Che non posso fare questo tipo di battute Eccola qua su schermo Ah no, scusate Quella è la definizione di sarcasmo Scusate E questo fracos è un È un delfino al momento Non c'è molto che può fare Eccola qua Lentissima Come non mai Guardatela quant'è lenta Mamma mia Moving 22% Ci mette 20 minuti per fare da una parte all'altra la colonia Vai così, freckles Eh, invece pay 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 sta benissimo Lei è esplosa anche a lei una granata sotto i piedi No, non è vero Mi sa che per come è andata È stata lei tipo a lanciarla sotto i piedi di freckles Addio Ciao Chiappa Giochiamo a hot potato con una granata che è già stata sganciata Vieni Goditi la tua pensione di invalidità Ah no, è vero In questa colonia non c'è pensione di invalidità Se qua diventi invalido e diventi combustibile Cargopods Usate il ritardo Cos'è? Uh, gnam, neutro ammina 30, ci si fa la colla, ma ok Ovviamente Ovviamente Perché tanto non mi servivano quelle piante Tranquilli Andate a prendere nel culo Oh, abbiamo finito Ricerca Non ci credo Peccato che Se ne mancano 24.000 di punti per finire Va bene Va bene Per 8 giorni ci possiamo Privare di Layton E di Pay Sono partite? Sono partite Tra un po' torno Ma sapete che una volta avevo anche dei pasti buoni Cioè c'è stato un periodo Tipo un paio d'anni fa Su Rimworld Nel quale avevo tantissima carne E ho iniziato a far fare i pasti buoni Guardate qua Cook fine meal Meal Yes Meal 4 4 Va bene Oh fuck Vabbè ma Orange è una bestia Orange è una bestia Non sente niente Non sente niente Orange Forse un po' le sente Guardate che cosa smart Utilizziamo i cavi per delineare Le... Le... I punti da aggancio Praticamente Degli shuttle E non solo Lo facciamo carino Dai Voi non vi immaginate O forse ve lo immaginate Non lo so Quanto può diventare Noioso Rimworld Quando letteralmente Togliete Tutte le cose Cioè E... 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 Non sto facendo niente Io Nelle mie giornate Cos'è che faccio? Non faccio niente Io guardo il tempo passare Ve ne rendete conto? Guardo il tempo passare Mi sembra normale? Cosa? Perché? Era una brava ragazza Salutava sempre No ok Ad essere sinceri Non sono stati quelli dell'impero All'influenza E... È successo ciò che è successo Una cosa che non ho particolarmente apprezzato È stato il fatto che Ce l'hanno rilanciata così Come se fosse un sacco di letame Però vabbè Immagino che ci passeremo sopra Perché non si può Sempre dichiarare guarda all'impero Tecnicamente si potrebbe Che non mi conviene In questo momento Vabbè ma io a sto punto mi diverto E scusate Cioè Cosa faccio? Utilizziamole ste risorse Ce le abbiamo Utilizziamole Quindi a Questo punto Forse forse No siamo a più 33 Dovremmo essere a più 40 Per credergli Persona Core Mannaggia loro Vediamo un po' Magari ce li possiamo comprare Non possiamo In più siamo neutrali Va bene Meccano il cluster Dove? Cos'è? Smoke spewer Non che mi interessa Ma no in realtà mi interessa Mannaggia Sparate direttamente a questo Anche se sicuramente lo mancherete Ma ok Ok le torrette tanto sono accese Cos'è che c'è? Un lancer E un pikeman Ah si vedrete che Bene o male ce la faranno Ah boss Abbiamo finito Manco me ne sono accorto Strikes Lost drifters Ah La mia spalla Ok Accettiamo Accettiamo Ma Gli facciamo Droppare tutto Aha Yes Come immaginavo Venite subito qua Immediatamente Immediatamente Venite qua Vi tolgo tutte le armi Cos'è successo? Ah beh no Scusate Scusate Cos'è che avete di armi? Tutte armi in mili Giusto? Perfetto Trovate un buon modo Per mettervi A fare qualcosa di utile Perfetto Andata Sorry Sorry My bad Ops Sto Bene 86 gradi Ragazzi Questo è il massimo Secondo me Che abbiamo mai raggiunto Meno 86 gradi Wow Meno 86 gradi Cargopods Bene Cassandra Lo so che questo qua È il tuo modo Di buttarmi fuori Dalla colonia In modo tale Che tutti soffrano Poi di potermia Ma io non ci casco Ok Non ci Casco Forse Ok Ho aspettato qualche giorno È iniziata La primavera Teoricamente Però fa ancora parecchio freddo Fuori Forse Forse posso iniziare A farle Farle operare Ma non ne sono sicurissimo Nel dubbio Mando Gifo Orange E Svetlana Qua a fare un lavoraccio Però Speriamo Resistano Vai Bene Non ci credo Sto comprando Un healing enhancer Con solo La birra Yes L'alcol Pag Non dovrei dirlo Ad alta voce Dio mio Pur little gummy Oh no Va bene Ecco qua gummy No gummy No No gummy Che succede? Ti faccio anche Un animal bed Ok? Ti mettiamo a dormire con orange Dov'è Che dormi C'è qua qua Ti mettiamo a dormire con orange Ok? Ecco lì Brava gummy Brava Vai a dormire A posto Per undici giorni Ci dobbiamo tenere gummy Più trentatré Quindi Dobbiamo aspettare undici giorni Che passino Così che gummy Possa stare tranquilla Ok Intanto facciamo diventare ghefo Invece un'altra Un altro super soldato E non è possibile però che Ogni Ogni serie che faccio di Rimor Deve avere dei super soldati Non ci credo Gami è una tartaruga felice Vero Gami? Sì che sei felice Va se qualcuno me lo smantella Mi smantellate quella cosa Per favore Devo costruire Smantellate Colpo Dai Smantella Dai Vai a smantellare Oh Ci voleva tanto Ci voleva tanto No Non ci credo Orange senza catafract armor E non posso partire così Ma Mannaggia Sciatolarai Oh Vero Gami Gami Dove sei Gami Mi sono perso la tartaruga Un momento Dov'è Tartaruga Ha 79 anni Sta cazzo di tartaruga Carry Gami Tu Shuttle Yes Vai vai Ciao Gami Ciao 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 Send Yes Possiamo Possiamo chiamare Esatto Possiamo chiamare L'impero E richiedere La posizione Della Persona core Jump to item stash Ce la possiamo fare Si va a prendere Il persona core Dai Si va a prendere Il persona core Non mi interessa Se orange Non mi interessa Se orange Senza armatura Drop at the edge Vai Benissimo 4.2 giorni Vai Sapete che adesso Possiamo Anche costruire La nave Cioè Tolta la ricerca Che è lenta Da far schifo Possiamo Teoricamente Costruire La nave Perfetto Tutti In prima linea Dove Oh Oh Mio dio Oh Mio dio Ritiratevi Oh Mio dio Ritiratevi Oh Mio dio Ritiratevi Oh Cosa cazzo È successo Dio mio Beh però Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Non abbiamo perso Manco una torretta La nostra killbox È davvero Davvero Efficiente E dai Ok Qua c'è Ci sono tante C'è un bel bottino Di guerra Ok Ci sono persone Ci sono Volpi Sono sicuro Che sapremo Cosa farne Eventualmente Ok Tanta Tanta carne Troppa carne Dio mio È un inferno E niente Gente Questo video Si sta rivelando Un'impresa Titanica Non sto scherzando Sono tre anni Che sono su questo video Ok Tre anni in gioco Ovviamente Ci stiamo avviando Al quarto Ve ne rendete conto E direi che A questo punto Ci dobbiamo fermare Perché non la faccio più Farò ancora Farò ancora Un po' di lavoro Off camera Come è giusto Che sia Almeno Per il prossimo episodio Avremo delle ricerche Così da nulla Da fare E potremmo forse Iniziare La costruzione Della nostra Fantastica Astronave Faffalla Pensavate che mi fossi Dimenticato Del meme Dalla Faffalla Invece no E invece no Ma io direi Che per oggi È tutto Come al solito Vi ringrazio tantissimo Siete fantastici E io direi Che a questo punto Vado in terapia Perché ne la faccio più A registrare Sto gioco Non ce la faccio più Davvero Sta partita Sta diventando Interminabile Grazie mille Ancora a tutti Io sono Gold E noi Ci vediamo Con i prossimi video Ciao 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 Grazie.